Voi, prima cosa, risparmiate o appena avete tanti soldi li spendete. Una delle prove che dovete fare, se avete il valore sul risparmio, è continuare a accumulare liquido senza motivo. No, è un scherzo. No, non sono scherzi. Mettete, eh ma, big ho 400.000 euro in banca, arrivo 800. E poi cosa faccio? Niente. Cosa dovresti fare? Ah, come niente, è certo, accumuli, abbiamo mica il valore sul risparmio, quindi più risparmio è più bello, no? Così compriamo più asset e investimento, la goduria. Ah no, ma io pensavo poi di dover, di comprarmi una macchina, di comprarmi una casa, oppure provano sempre a fare i furbi, ok? Hanno un po' di soldi, questo è un pattern terribile. Arriva lo studente, imprenditore, libero professionista, che magari sta già andando benino, ma non ha ancora il canone in comilione in banca. Perfetto. Lavoriamo insieme, facciamo le consulenze, alza i prezzi, facciamo il marketing, facciamo la pianificazione. Dopo un anno ha un milione in banca. Ve la faccio corta la versione. Quindi ci vediamo, ho raggiunto un milione in banca, sono felicissimo. Lo rivedo tre mesi dopo, cinque mesi dopo, sei mesi dopo, la sua faccia parla da sola. Lo guardo, mi hanno in mente dei nomi e dei cognomi, perché io ormai facendo questo lavoro da un po' mi accorgo, no? Le dico, quindi come va? No, no, bene, big. Banca quanto hai? No, allora, il business devo dire, banca quanto hai? No, perché il funnel, banca quanto hai? No, perché poi c'hai tu i cinque minuti dove devo aprire il pertugio, no? Eh, no, big, perché alla fine, cioè, perché comunque, alla fine, cioè, uno deve fare business, e quindi, soprattutto Dubai non aiuta in questa cosa, perché ho conosciuto delle persone, e tu mi dici, cosa hai fatto? Eh, no, perché praticamente ho investito 6-700 mila euro in un fondo, perché poi facciamo il business, facciamo l'exit, la vendiamo, perché le robe di alto livello, perché cominciano a sentirsi la minchia lunga, no, perché qui il profitto, le cose, e poi dopo un po' li truffano, una cazzata, cioè, morale, erano liquidi, sono ritornati poveri, e questo liquido qui non ce l'avranno mai più indietro, perché hanno messo il liquido in un'azienda che non è vendibile, quindi il capitale non può essere liberato, però abbia ragione, e che non dà molte volte neanche nessun tipo di reddito indietro, perché sono coinvolti dei soci, eccetera, cioè, avendo dei soldi, cominciano a giocare il gioco di quelli che loro pensano essere i grandi, no, questi business, queste ex, questi termini, eccetera, questo è un reale problema anche quando avete dei soldi e parlate con gli advisor, commercialisti, avvocati, wealth manager, che vi dicono che i ricchi fanno X, i ricchi fanno Y, in realtà non è mica vero, oppure è vero, ma hanno un patrimonio molto più grande del vostro, ok? Quindi questo pattern di continuare a spendere soldi a minchia china, una cosa che io continuo assolutamente a vedere, se non avete il valore nel continuare a risparmiare, continuare a risparmiare, e non è neanche facile, se si arriva effettivamente a un punto in cui uno ha una situazione comfortable, avete un milione di euro in banca, ragazzi, guadagnate 30.000 euro al mese, avete una gran bella situazione, ma non siete wealthy, non siete wealthy, fatevi conti, se voi spendete 30.000 euro al mese, ok? Spendete 360.000 euro all'anno, ok? Ora voi dovreste avere, calcolando il 4%, 365.000 per 25 di patrimonio, per potervi garantire passivamente il vostro stile di vita, facciamo il calcolo insieme, 360.000 per 25, sono 9 milioni, è un problema, avete 9 milioni? Avete 9 milioni investiti in cose conservative, senza la leva, senza il debito? 9 milioni di equiti, quantomeno, poi uno può dire, no, io lo faccio con la leva, fate quel caso, non so cosa dirvi. Ok, 9 milioni, eh, 9 milioni non è un milione, ne mancano 8, capito perché c'è bisogno del valore sul risparmio e sull'investimento? Questo è il fatto.